al casello muoviti in un altro modo ora con il nuovo telepedaggio monego puoi saltare la coda al casello con solo un euro e cinquanta al mese o pagare il servizio solo quando lo usi attivalo in cinque minuti in uno dei 15.000 punti vendita mone e abilitati in tutta italia o tramite l'app monego ora monego è con te anche in autostrada grazie